più di 28 mila voti in una sola settimana i 10 migliori giocatori di tutti i tempi quattro stagioni come la pizza un cinese benvenuti alla festa del quasi gaming il quasi all star game 2023 per gli usa jets dalla panchina col 32 per cento di preferenze patrick beverly i granchio 32,2 per cento timote luauo cabarrot 40,4 per cento devin buher i 52,5 per cento wendell carter junior e i 62,7 per cento i primo dei due gemelli di destino tahovol in quintetto 37,5 per cento di preferenze willy i principe di bel air shy giljus alexander il 47 per cento sua artezza jonathan isaac col 54,8 per cento i conte maschetti lance stefenson 64,5 per cento l'altro gemello del destino nonché galletta bol bol e col 66 per cento chiude il quintetto i bicchierone jarrett allen per i chicago bulls dalla panchina il 28 per cento delle preferenze marlon brando andre iguodala 31 e 3 il parcheggiatore abusivo fred van vlitt 33 per cento luke kennard l'impiegato di catasto coi 41 per cento di preferenze joel embid e coi 50,8 il regno di terrore alexiei pochuseschi titolari 71,5 per cento me fiondu a benghele 77,8 per cento il centro di gravità permanente bobanone marianovic 78,3 per cento johnny è quasi magia wall 80,5 per cento capo quadro team hardaway junior e con l'85,4 per cento il giocatore più votato in assoluto di quasi all star game 2023 tuho salamanca juan toscano anderson e però scusate io non volevo interrompere ma è cinese chi è qui t'hai sbagliato faccia cinese si comincia malissimo anche perché poi la cosa s'aggrava vlat kohankar il super ball della tignosità la notte degli oscar del surrealismo la partita più attesa dell'anno il quasi all star game io sono emozionato qui in diretta dai per me che la registro dai campo aperto studios a shihago i badalo guardalo sono emozionato anche perché oggi bisognerebbe che funzionasse tutto capito cioè una di quelle partite che che è buona la prima quindi anche i livelli di audio le cose deve quadrare tutto più di capo di capo e normalmente quando succede ste cose qui poi bada come l'ha atterrato e non mette non mette benissimo li avete votati li avete voluti li avete cercati questo è marlon brando questa è la partita delle partite i dieci giocatori più forti più amati più votati di quattro stagioni di quasi gaming allo united center il fuoco le fiamme voglio schippare il meno possibile per questa partita io ho anche un po d'emozione vi dico la verità perché tutti gli anni ritrovare questi popò di giocatori tutti insieme volevo dire anche i capelli tutti in carta pecoriti mi sembra che possano essere parcheggiatore abusivo questo è bobanone quello dietro il regno di terrore i chicago bulls signori hanno la squadra che tutti vorrebbero avere più capo quadro e che chiaramente trova l'intruso no e che però purtroppo è tocca tocca ci sono anche dei signori giocatori nell'nba il reale uno di questi è willy il principe di bel air e no è purtroppo e no no è inutile fai di sì non mi riferivo a te i poro e mbid partirà fortunatamente dalla panchina per quest'anno non cambiare stesso gioco e stessa visuale mi verrebbe da dire bobanone t'hai perso la palla 2 che poi ci aspetta una roba di tipo i pick and roll johnny wall bobanone marianovic cioè io sa una sarabanda di jingle per queste partite che 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 manco l'homo gatto fallo subito di johnny è quasi magia mi so scordato di togliere il limite di falli forse sarebbe stato utile perché se mi esce un protagonista per falli guerrino io perdi cervello oggi ma ti rendi conto bada lì quanto è arto bolbola cantamme viondu se è rischiato se è rischiato chiaramente i voti sono no non si sa fino alla fine il risultato dei voti quindi non avete potuto però se è rischiato di riformare sotto canestro per gli usagets i gemelli del destino e invece taco partirà dalla panchina tra l'altro vedo laggiù che ha in meno la faccia qui la bona cinese 1 a 0 gol di willy principe di belerno allora l'obiettivo è chiaramente quello di non darlo a quello laggiù con la testa quadrata johnny fino in fondo un paio di finte questo è il primo pallone che tocca farà prigionieri su bravo capo per me fiondu a benghele 2 a 1 attenzione perché dalla valigia dei trucchi di conte maschetti potrebbe uscire qualsiasi cosa è proprio tenuta in cardo proprio per questa partita rimbalzone di johnny wall per ora non ci sono cambi all'orizzonte nessuna delle due panchine si è mossa chiaramente qui l'obiettivo di questa partita non sarebbe quello di vincere però nessuno ci sta a perdere cioè non siamo qui per lo spettacolo siamo qui per tirare come direbbe giustamente capo che il primo non si lascia proprio pregare e la traventa sui secondo ferro maledetti giorno e t'ho pescato due volte non una ma due volte tu 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 contro bol bol non può niente non era bo sei talmente arto sua artezza che mi parei bol bol da quanto sei arto come gli ha dato noia tu cosa la manca gli ha fatto proprio lo sgarbo ha provato subito a mettersi di mezzo e ha recuperato il pallone secondo pallone toccato da capo fino in fondo due capo e anche quadro la valigia dei trucchi la valigia dei trucchi i contemascetti capisce tutto il centro di gravità permanente ci abbiamo anche la mezza transizione tu cosa la manca vede capo quadro non gliela dà neanche a stiantare aspetta me fiondu capisce tu hop hop gadget braccio di sua artezza che recupera tra l'altro con queste maglie catari frangenti voi mi parete quelli dell'anas vi usa jets però va ben uguale i conte l'errore il centro di gravità ma quanta gente gioca in questa partita ma la porterai via a me fiondo in questa maniera qui non c'era bo se non te la stia c'è anni capo arriva da metà campo oh qui ti volevo allora in un corpo solo entrano embidde il parcheggiatore abusivo e l'impiegato di catasto tra l'altro in memoria di jj reddick che non è stato colpevolmente inserito nel gioco da parte di cinese all'impio cosa esurti cosa esurti sei entrato ora gli dicevo in memoria di jj reddick all'impiegato di catasto i cinesi gli ha dato a più quindi no giocherà anche pe jj oggi luke hennard 4 a 1 comunque ridendo e scherzando chi sono queste le lova bulls posso dire che però non è la io gli voglio bene a billy donovan ma non è la stessa cosa se avessi potuto scegliere in panchina loro ci hanno messo i bambino dei kinder cereali qui ma io se avessi potuto scegliere ci avrei voluto jim boylan perché con boylan c'era una certa disaffinità tecnica proprio non elettiva ai tempi di primo anno purtroppo non è così allora quintetto per gli usa jets mi sembra invariato se non vado errato quindi cambi solo per chicago al momento ricordo i titolari con 36 minuti le riserve con 12 è certo sua artezza aerea jonathan isaac meno uno usa jets allora purtroppo è uscito a poquadro ma è entrato in bid perché giustamente se li metti tutte e due con la bagga proprio crasha il gioco e quindi l'ha dovuti sostituire fallo di ball ball aggressivo il parcheggiatore sui primo possesso ci saranno due tiri liberi potrei sbagliarmi ma mi sembra di aver visto alzarsi dalla panchina il regno di terrore parcheggiatore è uno di quelli alla prima convocazione per il quasi all star game wendell carter junior è entrato anche timote wawo a barrot perché giustamente avendo perso ieri sera oggi si è ritenuto lì a perso non me ha perso apposta ieri sera milano per poter liberare timote wawo a barrot per i quasi all star game è entrato anche granchio c'è devin buche quindi tutti quintetto nuovo dalla panchina per gli usa jets addirittura tau vede in bid dice sai che io ti parto dai palleggio fucilata dentro carter junior pei granchio arriva anche bucher c'è timote l'uawo qua giù nell'angolo ultimi quattro secondi vino in fondo fallo dell'impiegato di catasto partita spezzettata ci devono ancora rompere il ghiaccio cosa ci ha rotto guerrino invece non ve lo sto neanche a dire comunque si raggiunge dei livelli di artezze anche o il regno di terrore qua giù un attenzione perché c'ha più eh io non so se ve l'avevo belle detto c'ha più luke hennard fucilata il regno di terrore marlon brando arriva in bid vuole attaccare dai palleggio nell'angolo il regno stop mh mh carmelo carmelo no mh perdi il cervello è tau in queste situazioni non gli hai fatto partire i jingle con questo sciuffino alla markel fulsi granchio mi pare che ti voglia dare ancora più noia finché pole devin bucher ancora lo step back da tre punti in pieno stile devin bucher l'ha traventato in il secondo ferro rimbalzo di parcheggiatore abusivo che ci avrebbe una mezza idea di intavolare un tiro di ingarellassi proprio in mezza transizione da tre punti poi riapre ancora il regno di terrore il blocco di mbid se la picchia su un ginocchio la piglia devin bucher siamo entrati nell'ultimo minuto di primo quarto per ora punteggi anche abbastanza bassi in realtà sapendo che siamo nel goza dell'irrealtà i dieci giocatori più forti della storia il granchio per wendell carter junior so due anche per lui figurati il lavoro e io lo so io lo so lui ora piglia e si butta in dieta a vedere ora prova a partire dal pallet ascorta ascorta carmelo è però così capite capite se mi fanno uscire taco prima ancora che possa giocare anche solo un minuto in coppia con l'altro gemello di destino e cioè ma poi da quando in qua si fistiano i falli allo star game e lo star game come la summer league solo bargnani esce per falli alla summer league ultimi dieci secondi di primo quarto timote luauo cabarrot ancora per wendell carter junior il rimbarzo di mbid a tutto campo marlon brando attenzione è la serata buona e c'è e c'è io ti giuro che c'è la tripla perché marlon brando è sempre lui guerrino guerrino dammela buona guerrino dammela buona un zero è staccata è partita è buona è la tripla è l'alf cart shot di marlon brando 10 non gliela data gliela data non gliela data guerrino ancora una decine telefona a cicooli pigliate una defate qualcosa non si può stoppa non gliela data io ti giuro che non gliela data gliela data non gliela data ma ti rendi conto io devo andare a vedere le statistiche per capire se gliela data non gliela ma come si fa ma che bello spettacolo mi rovini ognuno ma chi è chi è l'arbitro blanco e purtroppo benny the bull e ci hanno non ce l'hanno data buona e può essere che magari l'abbiano fatto per mantenere un minimo no l'equilibrio di punteggio perché comunque sarebbe stata la tripla di più sei però volevo dire dava anche un po di pepe un po di niente è tornato su cosa la manca insieme a johnny wall quintetto titolare se non vado errato da una parte e dall'altra si fa vedere capo quadro johnny dice non ne parliamo neanche vorrebbe giocare un pick and roll come fiondu che gli porta in blocco ancora johnny attenzione perché è quasi magia hai visto come aveva poppato me fiondu a benghele pronto a tirargli la tripla attenzione perché questa è una soluzione tecnica e di solito non esploriamo e poi su no no questo in campo aperto è per guardalo qua è peggio per quell'altri dai non ci attaccare non ci attaccare non ci attaccare giochiamolo giochiamolo questo pick and roll esplori attenzione attenzione perché lo shacedauna se l'avesse shacedaunato ai tabellone me fiondu venia giù tutto lui un altro che windy city proprio tirano giù tutti i palazzo 12 9 primi due di willy principe di bel air per ora è stata una bella partita johnny ancora è quasi magia dentro me fiondu i più 5 dalla valigia dei trucchi niente no ma se accesi depresso ai conte ma che si può facendo il depresso in una partita cinese ma il senso dello spettacolo ma come vai a facendo il depresso in una partita di genere il blocco di centro di gravità permanente attenzione attenzione non sa come arzagliela capito lo vede troppo arto non ha capito se gliela deve tirare in questo palazzetto o di fuori dai tetto e quindi ancora non gliela ha arzata willy con un passaggio dietro la testa difende bene ancora johnny che lo tiene lì lo porta su bobanone fallo chiamato a wall secondo fallo e capo gli dice sta tranquillo se esci te tiro io ti venisse sonno ancora un pick and roll di johnny che poi si butta dentro vintage johnny wall bimane del più 5 4 2 assist candidato mvp attenzione a willy attenzione a willy uccellato il centro di gravità permanente sono i primi due di bicchierone esploriamolo esploriamolo questo doppio blocco pop a me fiondu che piglia e spara da tre punti ma sarà a fallo e pare un faraglione di apri se è venuto giù l'avranno toccato no guarda che willy l'ha avuta noia guarda che willy vuole tentare di portare che succede no no ma com'è possibile si è rotto bobanone ma ma gli hanno dato una botta nello stomaco l'ha riarzato come fiondu e tu cosa attenzione perché se tanto tanto non l'avete abbattuto definitivamente e pole un pochino quanto è niente pigliare e rientrare nella partita fammi andare a vedere come sta dove si vede come sta bobanone ma come si fa avea che fa con un cinese tiriamo contro in questo infortunio alle costole e quindi pole rientrare o no quanto è costato il costato ma guarda e noi gli si mette la pancera come a scisto flavrinovic e si ributta in campo ma figurati se ci possiamo privare di bobanone in una partita di genere l'impiegato di catasto ci avrebbe a più è marcato da uno con il depresso il catasto a più niente il rimbarzo di bicchierone ma ci stanno remando contro allo spettacolo di questa partita in una maniera ci hanno annullato una tripla da tutto campo ci hanno infortunato bobanone c'è gente carica di falli sua artezza da tre punti niente dimenticato marlon brando dalla media ma che cos'è cammina come pingu ma perché pare boba giusta tutto ragazzi io voglio sapere se rientra bobanone a me di tutte queste altre storie anche perché se rientra capite come il flu è come il costo la game viene fuori a qui punto la partita della danno vinta tavolino anche solo per l'inerzia capito la gente che esplode lo united se rientra è una roba allucinante il problema è che manca un minuto all'intervallo della partita per ora non ci sono notizie in merito i granchio ancora pebuche come belinelli da tre punti dentro e fuori rimbarzo di regno di terrore eccolo la a più jane no luke hennard l'impiegato di cadasto si è difeso bene mancano scicco e secondi buche ancora dai palleggio contro l'impiegato deve forzare grossa difesa dell'impiegato rimbarzo di regno di terrore 21 15 potenziale ultimo possesso di primo tempo l'impiegato ancora alla ricerca di 5 a 0 timote luauo cabarrotte un fine tempo a tirare oh e so stanco bada ma intervistiamo bobanone ma chi è perché dobbiamo intervistare cosa ha fatto in bidon se buttano anche indietro siccome il cinese non ha non ha studiato nulla perché voi ha preso bene niente bull e l'ha messo sulla bicicletta per l'intervallo della partita e allora io vi faccio un giro di statistiche quantomeno il miglior realizzatore a quota 7 è willy i principe di bel air nei rimbarsi ce ne sono tre di poro bobanone e però ora io ritorno a rivedere collasso polmonare e che vuol dire collasso polmonare bada è questo ma si può le farsi male in questo modo qui per il quasi all star game ragazzi io cinese veramente comunque nell'assist ce ne sono due di johnny wall e due di willy principe di bel air nei recuperi un po di gente a quota 1 e due stoppate di bol bol e a questo punto vedi che qui che qui c'è stato in bid e gli ha fatti in macumbero gli ha fatto la macumba siccome voleva giocare non lo facevano giustamente giocare i gemelli del destino dicevo è un bid e allora ha detto sai che io lo fo rompere a bobanone così gioco io e mi butto all'indietro maledetto di un bid 21 15 comunque bada come ti piglia lo sfondo no guerrino guerrino ma questo era uno sfondamento che nemmeno colbi ross attenzione perché willy attenzione carmelo c'è c'è l'ergastolo stativo per un fischio di genere ora se non mi fai partire i jingle di me fiondo in tutta la partita perché gli hai fischiato questo fallo inesistente carmelo faccia cambio di carmelli piglio lo guzzo ai posto di paternico e purtroppo johnny e t'hanno dato odesto per giocare i pic e rolle io mi rendo onto era meglio bobanone ma è purtroppo c'ha 96 97 91 non so neanche quanto gli hanno dato bado dallo schifo e fa e da quanto non la pole teni in mano gli da noia tu cosa la manca è arto però jonathan isaac vada johnny come imbecca tu ho dall'angolo che giocatore allucinante anche se sbaglia la tripla capo ce la farai a stare fermo immobile per cinque se ce l'ha fatta per davvero mi si sono accesi anche tutti i piedi focolaio di piedi accesi in casa chicago immotivatamente su un rimbarzo difensivo a quattro minuti dalla fine di terzo quarto in bid addirittura da fatto anestro coi piedi accesi da quanto siamo attivi siamo rientrati da time out coi piedi accesi ma con chi si sta giocando in questo momento scusate come fiondo da cinque i bulls come fiondo da cinque e tu ho da quattro una coppia di lunghi cattivissima sotto canestro prova attaccare ancora jonathan isaac che è artissimo gli fist hanno un altro fallo ci avrà due tiri liberi io penso che un arbitraggio di genere manca i campionati mondiali di frisbee ce l'ha ce l'hanno l'arbitre a frisbee non so e giustamente anche le rotazioni senza bobanone ora si va di small ball in quel dice eh ma tanto è inutile fare gli schemi è inutile provare la tattica perché alla fine c'è un buco nero che assorbe tutto quello che gli passa dintorno capito fa gocita all'esistenza e che vuoi ecco detto lo fa di mestiere però mi fiondo gli dà noia e recupera il rimbarzo nonostante il mismatch stoicamente il pallone per Marlon Brando più quattro Chicago Bulls attenzione 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 c'è mancato niente ah ah cioè fammi avvi comunque United Center gremito su ogni ordine di posti eh per i quasi guarda Chicago terra di fallacanestro come risponde che gli hanno tirato a quello i panetti di droga come ai bei tempi c'è stumare fuori cinese il poro mefiondo ora è accoppiato contro Taho e l'operazione jingle diventa sempre più complicata però c'è Wendel che ci potrebbe dare una mano rimbarzo di regno di terrore ora il pericolo per i Chicago Bulls è che da qui alla fine complice tutto quello che è successo vedi si voglia prendere la scena l'uomo dai cranio a quadrilatero che subito l'ha traventata sui secondo ferro ti vedo male guarda che te vuoi rischiare te vuoi scherzare coi fuoco piedi accesi agli Utah Jets per gli ultimi dieci secondi di terzo periodo io penso che non ci sia la minima possibilità di levargli qui pallone tra le mani forse non tira neanche bada dalla paura che ha che gli possano portare via la possibilità 27-25 eh i Bulls ora giustamente sono in difficoltà stanno continuando con quest'opzione di mefiondo da 5 nel tentativo di arginare però è piccino i Conte da 3 per azzannare la partita alla giugolare 30-25 non so sicuro che giocare i pick and roll come fiondo che però è terribile perché poppa poi Wall prova il tiro in hesitation l'errore il rimbarzo di bicchierone occasione per portarsi sui tre possessi di vantaggio da parte degli Utah Jets c'è Willy i principe di Bel Air Bol Bol che fa da sponda si torna ancora dai Conte che prova a prendersi in mano la partita Vintage Conte sopra il ferro più 7 amici miei eeeh i gemelli del destino ragazzi qui si parla del miglior stoppatore ogni epoca nella storia del quasi gaming cioè non è che capita tutte le volte questo invece è la cosa peggiore della storia di quasi gaming tutto sommato a suo modo anche lui ha un record tripla meno 4 capo quadro mancano 4 secondi si è difeso bene stai rischiando stai rischiando te è andata di lusso nessuno ha rimbarzo ancora i bicchierone per i più 6 ce lo vogliano fa patì questo jingle finale perché poi alla fine il vero obiettivo di quasi all star game fa partire in una partita sola tutti i jingle e ce ne manca uno si è acceso in depresso a Johnny Wall in il frattempo ultimi 3 e 40 eccolo 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 Harry no 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 non è che quello lì in ginocchioni lo vogliano far entrare al posto di mefiondu perché se levano mefiondu ora per mettere in bid e poi per il finale di partita io perdi capo 3 e 20 capo ancora dai palleggio attenzione perché sta per succedere attenzione perché è nell'aria oh ma il conte eh no no lui nell'ultimo quarto è ineluttabile è una portrona per due alla vigilia di Natale cioè non ci puoi fare niente non ci puoi avere niente a che fa ma poi la piglia sulla rimessa cioè proprio guarda Mui Mì il quarto di campo cioè proprio vada Johnny da tre punti coi depresso ma qua ma anche in mezza transizione ma perché ma per attenzione ah lo vuoi levare quello lì in ginocchioni non lo voglio non lo voglio vedere l'ultimi 1 minuto e 50 come fiondu che deve fare no non lo voglio neanche vedere no no ma veramente ma so 4 anni che vedo questa banda io io ti giuro che l'ha levato no non l'ha levato è laggiù ci abbiamo ancora un minuto e 37 di tempo c'è Johnny con il depresso acceso i Bulls sono piombati a meno 10 ma non interessa niente a nessuno l'obiettivo è uno solo mancano 8 secondi alla fine dell'azione Willy si butta dentro potrebbe essere l'occasione recupera la difesa c'è Bol Bol non sarta mi fiondu va bene fate veloci con questo attacco tanto lo sappiamo tutti come andrà a finire il pallone capiterà nelle mani di quello lì e non vi farà più il ritorno oh mi mancava anche una bella buttata indietro giustamente ora Iuta vuole anche giocare con il cronometro c'è il conte che prova a sfidare la sorte si torna da Willy il principe di Bel Air ultimi 40 secondi blocco di Johnny Wall capisce tutto tu cosa la manca per la partita temo che sia un po' tardi Tuco qui prova a gestire comunque la mezza transizione il pallone finisce da capo quadro e addirittura lo riapre perché quando Tipole remà contro in qualche modo lui se ne ingegna Johnny Peembide appena segnato vorrebbe ributtarsi indietro poi attacca contro il bicchierone sbaglia piglia il rimbaccio ma perché? ma l'extrapass di capo quadro per far passare più tempo ma veramente? ragazzi mancano 9 secondi probabilmente non tirerà i conte mascetti e allora è come quando si aspetta il miracolo che quest'anno non è avvenuto non ci abbiamo avuto la stoppata di Mefiondu finisce con la vittoria degli Utah Jets 1 su 7 contro 2 su 13 non dico altro il miglior realizzatore della partita quota 9 è Willy il principe di Bel Air nei rimbarsi 6 di bicchierone 6 di Bol Bol pochi pochi per i bursi e purtroppo è uscito Bobanone per i problemi che sappiamo 4 assist di Johnny Wall e di Willy il principe di Bel Air nei recuperi 2 di Bol Bol 2 di Tucho Salamanca 4 stoppate dello stesso Bol Bol vi ricordo che potrete votare voi l'MVP del quasi All Star Game sulla sezione community del canale e come sempre l'appuntamento è ancora qui tra un anno per il quasi All Star Game 2024 chissà quali personaggi saranno entrati nell'epica nella narrativa dell'improbabilità che è la serie che ha superato qualsiasi record sul canale con più di 2 milioni di visualizzazioni complessive non ci sono parole per potervi dire ancora grazie e perché non ho tenuto il conto di quelli che mi hanno chiesto di firme se no altro che 2 milioni lì grazie a tutti Grazie a tutti